una delle peculiarità che caratterizza la piccola chiesa dei santi giovanni e paolo nel centro storico di spoleto risiede nei numerosi affreschi votivi che ne decorano l'interno si tratta di immagini di santi fatte realizzare dai nostri avi come ringraziamento per una grazia ricevuta a breve potremo di nuovo ammirare con uno sguardo diverso con rinnovata consapevolezza queste preziose testimonianze di una profonda ed antica devozione